eccoci qua oppala ma che logo meraviglioso allora intanto vi spoilerò questo logo che ho creato apposta per le cose che faremo insomma sia qui che nelle varie pagine internet intanto mi piacciono si verrà fatto poi anche con gli altri loghi però chiaramente io utilizzo in allora siamo partiti da qua e i piatti alieni questo lo rappresenta credo molto bene anzi giorgia se mi stai guardando grazie perché me l'ha disegnato lei è stata molto molto brava quindi anche le magliette mi ha fatto tutte le grafiche me le ha fatte la giorgia è stata molto carina c'è grafiche nel senso i disegni proprio questo l'ha fatto a mano e mi piace moltissimo allora parliamo un po di ufip piatti alieni perché dico questa cosa perché dico ufip piatti alieni ho acceso tutto per farvi vedere la maglia chiaramente molto più chiaro delle solite nottate qua allora provate a registrare giù con l'ipad con le d10 non so cosa sarà avvenuto però intanto vi faccio capire alcune differenze ho montato quattro ride in realtà sono tre ride e un crash da 20 che però nei locali piccoli tante volte utilizzo come come ride proprio perché è bello leggerino non rompe le scatole nonostante sia un crash e anche medio medio leggero direi però per farvi notare un po le differenze vedete un 21 qua la mia sinistra vedete un 21 la serie vecchia molto pesante siamo intorno ai 3 8 3 9 cioè quindi pesantissimo col ping molto aperto chiaramente c'è le d10 e non so come farò poi il 20 appunto che è un crash che utilizzo nei locali piccoli e 2 22 che sono i piatti che utilizzo quasi sempre c'è un poca differenza sono non mi ricordo se uno 2 8 l'altro e 3 2 insomma c'è non poca differenza cambia di molto il ping ma lo spero di riuscire a farlo sentire magari ve lo mando ora lo sentiamo poi vi spiego perché dico piatti alieni e parliamo un pochettino di ufip in generale non solo dei nato ma in questo caso avevo nato ora le volevo fare un po di sperimentazione e ho provato diciamo vediamo vediamo se riesco a collegarvelo qua ciao 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 a parte io che suono la batterista di quinta e purtroppo dovrò alzare il volume non so se sono riuscito a farvi capire bene i piatti chiaramente rullante e cassa andranno molto su di volume ma ho cercato intanto i soliti messaggi ho cercato di alzare un po i volumi per farvi capire differenze allora questo logo dice piatti alieni perché tutti gli ufip hanno una peculiarità che è quella di essere inseriti nel set questa cosa cosa vuol dire essere inseriti nel set quando voi andate a provare un piatto qualsiasi anche piatti che magari sono più rinomati e lì per lì vi piacciono di più poi quando li andiamo a inserire nel nostro set cambiano di molto quindi anche quello è una cosa alla quale bisognerebbe guardare magari io ho un po più idea perché avendo provato così tanta roba magari ho le idee un po più chiare se non sei proprio un professionista diciamo che è già scatenato con i piatti ma sei un curioso stai imparando stai vedendo tante tanti marchi ecco mi spendo una parola per ruffi intanto lo sapete che promuovo l'artigianato italiano sono gli unici piatti italiani diciamo che poi sono artigianato dall'acqua sono famosi in tutto il mondo e magari non a tutti non sai ho sentito uno si parla sentite sugli uffi ma non si rompono e quelle l'altro ma della roba che non stanno né in cielo né in terra spero di potervi far vedere un po tutte le serie qua che diventi una saga del piatto italiano mi dispiace poi vi faccio vedere anche gli altri non è che non c'è io capa paist dai signatori 3000 sono molto affezionato ma insomma il capa castro special dry no che sono questi più noiose mi piacciono i piatti dry ma questa cosa cosa vuol dire perché mi farò vedere questa roba e perché dovete stare attenti perché insieme a igor che veramente di uffi ne sa una cifra perché lui da veramente tanti anni che non solo amico giù collabora va e quindi si da da fare parecchio per questa azienda e la cosa mi piace molto insieme a lui abbiamo già fatto una reunion delle varie pagine facebook spero di fare quella qua delle varie pagine youtube e ci troveremo andremo tutti alla uffi non so quando ma ve lo comunico e poi anzi ci vedremo in live con igor perché ci tengo che lo conosciate e poi mi piacerebbe vederci tutti lì che cosa cambia perché dico piatti a linee proprio perché quando metteremo un un uffi che abbiamo provato fuori dal set dentro al set resterà molto quello lì questa è la differenza magari un altro piatto è bellissimo ma quando lo vado a mettere nel mio set abbiamo già parlato di riflessioni diciamo subiscono un po meno le influenze e la cosa diciamo meravigliosa quindi noi ci troveremo non so quando ma vi tengo aggiornati e ci vedremo parleremo delle varie set serie questi questi natural mi piacciono parecchio io amo i piatti dry ma alla fine comunque non sono così scuri come capa castro ad esempio e quindi non so mi piacciono parecchio mi piacerebbe farvi sentire un po tutti e adesso ho fatto questo primo test e magari riapriamo intanto con questo logo meraviglioso ragazzi se come sempre con la morte si è arrivato fino qui grazie la mail è passata quindi se solo se vuoi lavorare con me mandami un messaggio e vedremo di collaborare cerchiamo di lavorare insieme per il resto insomma questa è una storia che andrà avanti parecchio e quindi resta un battaglista anonimo e ci vediamo al prossimo video ciao